Oh ciao a tutti ragazzi Il video è già iniziato da un po' Vabbè ma Comunque ora proveremo delle nuove mod Comunque non ne proviamo tutte Le TNT Perché qui c'è molto meno tempo Il video lo vedete sull'altro canale MF09 Extra Vabbè ma cominciamo La Instant TNT E' una TNT che scoppia subito Appena la accendi Ma questa direte Ma è la TNT normale Sì dai mettiamola No non è la TNT normale Guardate che cosa fa E' una TNT con un danno davvero massivo Guardate che roba Intanto l'aveva fatto scoprire tantissimo carbone Poi Poi c'è anche La TNT per 5 Che questa fa davvero molto danno Comunque qui proveremo solo le TNT distruttive Quelle creative purtroppo no Perché non c'è tanto tempo Il video completo lo trovate sul canale MF09 Extra La TNT per 5 ha fatto davvero un buco molto grande Ma ora passiamo alla TNT per 10 Secondo me la TNT per 10 davvero fa un sacco di danni Guardiamo quanti danni fa Accendiamola Accendiamola Uuuu Quanti danni Comunque dopo facciamo esplodere la nucleare In quel villaggio Ma ora Proviamo la TNT per 25 Scusate c'è il mio cane che fa cagare Poi Li vado a aprire Però deve stare zitto Proviamola per 25 Guardate che roba Che buco gigantesco Mamma mia Che buco È enorme Ma ora Ma ora però Proviamo le due TNT Più potenti Della mod Prima di tutto La TNT per 50 Guardate Proviamola qui lontano dal fiume Guardiamo che cosa fa Oh mio Dio Guardate che roba Guardate che roba Proviamo a farla esplodere pure qua Guardiamo che cosa fa No vabbè ma Ma è un buco nucleare Quanto è grosso Vabbè adesso però Proviamo l'ultima TNT La TNT nucleare Questa è davvero una roba micidiale La proviamo in questo villaggio La piazziamo esattamente qui Guardate che cosa rimarrà di questo villaggio Ci metterà tantissimo ad esplodere Io non so se riesco a tagliare Io mi giro Le pecore hanno preso il danno Ho paura a girarmi Sta succedendo un lag assurdo Guardate Comunque io ci sto giocando direttamente col joystick Questa qui non è Non è che la sto riprendendo Wow Il villaggio è stato disintegrato Cioè questa TNT ha un potere distruttivo Non so quanto E la riproviamo adesso in una montagna Secondo me qui la montagna farà qualcosa Di Enol Secondo me toglierà tutta la montagna Guardiamo che cosa fa Guardiamo se la piazziamo al centro della montagna Proprio qui Voglio proprio sradicarla La montagna Guardiamo che cosa succede Ragazzi Io forse dovrò tagliare Perché ci metterà un casino ad esplodere Ma comunque la nucleare È la TNT più potente di questo mondo Io ho paura Di vedere cosa c'è dietro Esplosa Esplosa Da qui si vede il fuoco E Wow Wow Ha lasciato una minuscola isoletta Che la farebbe esplodere semplicemente Con una TNT per 5 Vabbè perché è proprio da fastidio St'isoletta Ma guardate Che roba La montagna È stata Disintegrata Comunque video completo sul canale MF09 Extra Il mio secondo canale Ma queste erano le TNT distruttive Della mod Ciao